una notizia di estrema importanza che comunque avevo già comunicato era quella del ciao gindobre gindobre una notizia importante che avevo già comunque comunicato era sta e quella è stata quella del è stata quella del cambio a dolore è stata visto che non messe due no solo che con uno bisogna fare attenzione quello che ti rimane qua così capito che a volte quando ti metti la cintura si aggancia bisogna fare attenzione notizia importante appunto è stata quella di aver cambiato il filo dell'accerelatore che ricordo deve essere di due metri ce ne sono di due tipi uno da un metro e trenta e l'altro da due metri devi prendere quello da due da due metri e meno male che bello quando c'è il sole e il villaggio è vuoto solo che domani arriva gente andiamo vado a prendere del prosciutto vado a prendere il prosciutto crudo mi dite che vuoi dai andiamo a fare un giro va solo che diamo a prendere il quino ho messo la benzina ieri la 98 ma giusto per pulire un po' il catalizzatore capito? ho messo 100 slot cioè 14 litri ho messo là c'è il lago di tresta qui giochi che io ci vengo faccio allenamento lì il parcheggio che oggi è vuoto questo qui è il tipo questo che è entrato adesso è il tipo che ha la waz e la lanter vado nel supermercato piccolino io preferisco i supermercati piccoli a quelli grandi perché così mi limito a prendere quello che mi serve il supermercato grande mi distrae mi fa prendere roba di cui non ho bisogno completato quasi completato il nuovo i nuovi residence guarda è enorme la zona qua qui hanno aperto un altro piccolo negozio dino ma io non vado qua oggi vedi questo qua dino anche qui necessità di primo consumo no? quindi frutta, verdura insomma roba di primo consumo piccolino buono come prezzi molto onesto dino sono un po' come questi l'idol è già grande aldi è già grande questi sono molto più piccoli netto non credo che in italia netto ci sia non so neanche se c'è aldi aldi c'è? non so qui il... come si chiamano? panetterie varie noi giriamo di qua è importante quando le marce non sono sincronizzate conviene fare la doppietta campo di calcio c'era già ma adesso l'hanno sistemato, rimodernizzato gli hanno fatto gli spogliatoi bello chiesa fantastica guarda, 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 guarda ah, meno male che ce ne vai e questo? un maledetto è un maledetto Da questa che mette la mannina che fa la freccia di fuori Incapaci, incapaci, proprio totalmente incapaci a guidare Eccoci qua, albitronche Devo prendere anche del pane Prosciutto E adesso torniamo E' stato fantastico Sì, non vi ho fatto vedere tutta la spesa che ho fatto Ero andato per il prosciutto E' normale che non... C'è sempre qualche cosa, vedi? L'aglio che manca Questa ve l'ho già detto, questa è la stazione di Vodicovize Qua ci sono tutte le villette Alcune vecchie, la maggior parte vecchie, altre nuove Pierna il posto Vedi? Che stanno facendo adesso queste Qui va tanto anche il prefabbricato Bellissime casette ci sono Adesso non in questa zona però Voglio farvi vedere qua dove ci sono tutti i caprioli Un maneggio di cavalli Qua così Vediamo se ci sono Hanno anche i lama Poni Vediamo Normalmente sono di qua Infatti non ce n'è neanche uno Ma neanche proprio Chissà dove li hanno messi Questa è la zona Residenziale Laguna E hanno fatto degli appartamenti Devo dire Frontelago Per chi è frontelago laggiù Altrimenti sei fronte strada Oppure zona centrale Molto grande Molto grande M questioni Qui è qui S aqu tenido 找i Si Mi Arriveder username Grazie a tutti.